e te con le bravo ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono bravo e oggi ragazzi siamo tornati su un nuovissimo gioco che si chiama Cranker oh mio dio siamo tornati, si non giocherò io adesso in questo momento ma vi lascerò a delle clip che ho registrato insieme a un altro mio amico, stavamo giocando uno contro uno e fatalità mi sono venute delle skill così a caso e ho detto ma si perché non registrarle, facciamo i best moment e via e siamo a posto comunque questo gioco Cranker non l'ho mai portato sul canale ed è un gioco che avrà già due anni diciamo si qualche annetto ce l'avrà già ma è sempre un gioco multiplayer non bisogna scaricarlo, non bisogna fare niente cercate sul Cranker.io e giocate quando volete detto questo ragazzi vi lascio il clip e niente buona visione ciao 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti